Musica Ciao a tutti amici e benvenuti su questo minimo video Siamo oggi su Fasmofobia e oggi madonna Guarda come carica veloce Ah subito così? Ok Taccuino, torcia e fotocamera Usce Comunque Nevas non so se tu lo sai ma quando il fantasma è in una stanza ci stanno tipo le croci sul muro che girano Ragazzi controllate qua perchè mi ha fatto una nitata fredda Sì Al piano mi sa che sta sotto Sta sotto Dove si scende? Sta sotto Lo so perchè mi dice che... Ci stanno le scale all'inizio se ti ricordi No intendevo come senti Li senti Jetty? Ah no tu c'è quell'altro Dobbiamo scendere solo che non so dove si scende Eh ti sto dicendo All'ingresso Ok Ci sta sulla destra Le scale Ci stanno le scale sulla destra Ma in generatore non c'è qua? No Comunque parlate con Bi quando voi che avete il microfono perchè vi sento a scatti Sì Secondo me sopra tu stavamo prima perchè sentiva la pietella Questo però si vedeva Perfetto Questo corridoio Ho detto Eh sei qua Prossima stanza qua Qui Ciao Gennett sei qui? Ciao Gennett sei qui? Lo lascio a terra così intanto io vedo altre luci No ha fatto rumori Di qua Di qua Duol Clopallo L'all Bloody 1953 Piccolo Un signore Red e facciamo questo no questo non era giù era di qua e non sento più il fantasma che parla eccolo l'ho beccato mi vedi l'ho beccato in una stanza con l'acqua aperta ciao Gennet sei qui? Gennet sei qui? qua Gennet sei qui? Gennet 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 o ha scritto sul libro Gennet ti va di parlare con me? perfetto perfetto a posto ok ha parlato ha parlato comunque l'altra stanza non quella si prendi il Doz vedi è qui dove sto io prendete il Doz com'è? è stato tuo zio è giusto si è l'avete presso a voi le cose? Gennet la croce la croce vale ok ce ne manca uno no perché non mi ha fatto interazione uè 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 mi c'è sta attaccando o o prenao? mannaggia tutto mamma mia ma quasi preso è che sta arrivando la seguivo ma dov'è? avete visto peccato il dozzo prima che attaccasse? no è in mezzo di cosi no è in mezzo di armati perché allora potrebbe essere un moroi se ci ha drenato tanto alla sanità potrebbe essere un moroi se no un deogen perché non si sono mai nascosti è mezz'ora che siamo dentro è però ha provato ad attaccare il deogen però il deogen ci sarebbe stato il dozzo chi è morto? vabbè noi lo vogliamo andare moroi? agatta moroi sembra quella più... io metterai il moroi agatta moroi sembra quella più vincente adesso rispetto a deogen novità? 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 sento sempre oggetti sotto neve si sente degli oggetti sotto provate a controllare però se non si sente l'audio è come prima puliamo prima sopra novità? nessuna è stato impossessato Matteo Panese ha detto troppo strana e Jessica non banga quindi non ha ucciso attuale anche questo oh hai sentito oh oh hai sentito a sinistra cos'è quel rumore? allora in questo punto l'ho sentita parlare ho capito di preciso c'è un po' di amita da ghiacciata ma vedi? non ha fatta qua no Emma è ottimo io non voglio dove sei? avete messo per farlo un libro qualcosa per vedere se scrive? proviamo Emma su un barriere c'è un libro spiritico scrivici e ficcate con il mamma Emma puoi scriverci un libro per favore? oh 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 è arrivata una litata ma anche una fumata pazzesca non c'è ci fa parlare a te dai uscite? c'è proprio da solo tu si paccio frate si dove sei? eh due volte sta che cosa? dov'è? esci no no esci esci ah hai detto in mano pensavo vabbè scusa 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 oi là tutto ok? no non lo so ma da dove è attaccato? da qui qua da dentro? eh sono andato molto vicino alla zona con una spirit box e ha iniziato ad attaccare quindi presumo che odi quando questo fantasma odia quando qualcuno gli parla vicino forse sono stato ucciso ragazzi vendicare un bambino di attremmi ahah ma da dove la fantasma è la perché è uno di quelli che si può sentire gli attrezzi che ci abbiamo e lanciava oggetti ma una farla avevo sentito pensavo pure io perché ho pensato a lanciarobo ci ha provato a muoversi si muove però allo baghi non potevamo prendere nessuna prova incredibile come che faccio a casa